ciao amico allora condividiamo la live come state batman sound alert allora implement the search correct c'è anche il sound alert oltre al stream element ciao ragazzi ciao batman come stai amico mio come è andata oggi la bat giornata ciao ragazzi corriamo un po' di gran turismo dobbiamo fare soldi 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 cosa ne dite facciamo tanti soldini condividiamo la live tutto ok perfetto perfetto buonasera frac aspetto in live adesso ok condiviso condiviso ragazzi amici miei allora stavo pensando di andare a fare una garetta per soldi e dopo quasi quasi facciamo già il party aspettiamo sharder uè passerina grande ciao 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 uè lo zio mario bella raga si incomincia subito col botto passerina se tu non sei che mi sono fatto male oh ti sei fatto male al polso a palla prigioniera mamma mia sta palla prigioniera fa più danni di qualsiasi altra attività del mondo vabbè non c'è problema dai stasera guardi poi ti passa il polsino in questi giorni e lo facciamo e lo facciamo bella passerina mitica ma sei iscritta al mio mitico canale passerina se non sei ancora iscritta iscriviti immediatamente amica mia dai che andiamo a 450 passerina tv fammi vedere se io sono iscritto a te a mitica io sono iscritto a te dottore bisogna giocare insieme su forza uno di questi giorni di settimana assolutamente sì assolutamente sì forza aspetta ciao marcolino ciao loki ciao deciso ciao batman allora forza purtroppo forza motosport sì riusciamo 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 perché riesco a streammare dalla xbox oh grande grande che sei iscritto iscritto poi quindi sei un maschietto bella lì grandissimo grazie grazie ciao loki ciao frack ciao a tutti allora visto che siamo in tanti io non andrei a farmare andiamo a fare qualcosa di molto più interessante allora andiamo horizon forza horizon allora no ti stavo dicendo passerina purtroppo che il mio bs infatti zio mario lo sa non riesco a giocare adesso non riesco a giocare no a batman è venerdì non è oggi zio mario lo sa che non riesco a far funzionare bene obs sì 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 forza horizon l'avevo capito perché oggi zio mi ha regalato la sub al suo canale uh grande loki grande zubituzzo grande zubituzzo seguite zubituzzo e praticamente passerina devo streamare da mh 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 ah io voglio provare la f50 questa qui l'ho comprata ieri ragazzi ora mi sono perso anch'io cosa mi sono perso assolutamente niente abbiamo appena cominciato no è che praticamente devo streamare da stream elements beta come io come io vado su stream labs beh assolutamente più aiuto c'è meglio è sinceramente ti dico la verità ti dico la verità perché allora ti spiego che cosa succede so però volevo allenare per fare una brutta figura ah ok ok vabbè ma ascolta ma non si fa brutta figura di niente nel senso amico mio si va si tira un po' il pallone e si vince siamo contenti e si esaltiamo come dei po' ciao gioco gioco ma da quanto tempo non arrivi sul canale gioco gioco ma da quanto tempo non vieni a trovare il mio amico mio ah 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 grandissimo e si devo streamare da xbox series x mamma quanto è se x ok dai streamiamo da xbox serie 6 e si può giocare a forza 5 si può fare si può fare si può fare tutto ragazzi il problema è che non ho il tempo di fare tutto perché perché non lo so perché non lo so io sto cercando una macchina della ferrari bellina poi cosa ne dite ragazzi mi piace qualcosina e stavo dicendo qualcosa che mi sono ehm dimenticato di dire allora gioco gioco ciao tutti gli altri ah si rocket league in teoria lo portiamo venerdì ragazzi venerdì sera con lo zio mario e non mi ricordo più chi viene però lo possiamo portare venerdì a me questa qui mi piace fammi vedere un attimo venerdì se ci mettiamo d'accordo la portiamo venerdì se non c'è è un po' taracca no non mi piace eh se no la portiamo un altro giorno perché è uscito un sacco di roba un sacco di giochi fighissimi vediamo questa rotmans e e io solo che voglio di giocare a gran turismo ciao amici e amiche di twitch benvenuti benvenute ragazzi eh mi raccomando guardate che ci sono le emote nuove raga scaricalo rocket scaricalo rocket io l'ho già fatto amico mio tu l'hai scaricato questa mi piace anche se questa 26.000 che è un po' mi rode vabbè però mi piace io l'ho già fatto amico mio tu l'hai scaricato marcolino domani manutenzione su ooooh allora domani sera non si può giocare a gran turismo loki o forse la fanno di mattina penso ciao amici di twitch grandissimi allora ragazzi ci sono un sacco di emoto nuove allora loki 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 scrivi asterisco punto esclamativo compra scrivimi questo per piacere loki dai grande loki scrivi guarda ragazzi da oggi sono disponibili magliette cappellini t-shirt felpe tutto il merchandising che potete comprare marchiato marco drums games racing team facciamo a spa dai facciamo uno spa non lo so perché voglio fare lo spa ragazzi non c'ho neanche le gomme in teoria su questa f50 però mi viene di fare ma non me lo fa aprire perché potete scrivere anche la stessa cosa merch m r r c r c non lo so ha scritto leo è quel che non lo fa aprire non lo so a me lo apriva ragazzi comunque vabbè scrivetelo è il merchandise di marco qualche volta posso citare io che lo vuoi assolutamente si gioco gioco ma cosa vuoi giocare a che gioco a che gioco 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 mancherà un'attività per l'aggiornamento ok gioco gioco scrivimi a che gioco vuoi giocare che bestia che è no ma dimmi che che è cambio automatico aspetta effa ma stavo scambiando e forse era meglio se lo lasciavo manuale è sì che viaggia sta macchina guarda ti faccio vedere che mezzo è guarda qui è l'f50 amico mio l'f50 è tanta roba guarda da dentro gioco gioco non mi ha risposto che gioco Marco mi sa che lo prendo il G29 eh sì dai loki allora è perché guarda che quello che mi hai dato tu è un po' così sarebbe bello giocare con noi a World Zone ma praticamente non so neanche come si spara perché te ne frega tu segui allora perché adesso voglio provare gioco gioco tu sei capace a meglio il GT7 eh beh il GT7 vieni no stasera puoi già venire se vuoi adesso facciamo quando arriva il mitico Sharder prepariamo oh ora sarebbe bello giocare con te a moris ah ok ok non ha problema allora no moris gioca solo a Call of Duty con me quindi se vuoi giocare con noi stasera non c'è problema andiamo su Gran Turismo e facciamo un po' di online se vuoi giocare a World Zone con moris ci deve essere moris oh io ho cannato io ho cannato un po' ragazzi no ecco perché ho cannato perché sapevo che questa con questa macchina non la si può prendere a pieno allora è tanta roba sta macchina però bisogna stare un po' attenti col frenaggio è comunque tanta roba sapete cosa voglio cosa mi è venuto la voglia di fare andiamo a fare qualche esperienza sul circuito che pagano bene io c'ho bisogno di raccimolare i soldi per poter comprare la macchina da 12 milioni raga prima che me la levano ciao amici amici di Twitch benvenuti al canale grandissimi come è state come state come state come state come state grandissimi si vai dove vado non ti sto seguendo più Batman da un po' che non ti seguo dove vado dalle 6 alle 8 ah la mattina vabbè la tratta solo al lavoro bene 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 solo che bene allora dovrebbero introdurre un bel po' di roba eh sia dalle lobby migliorate a fare i cosi per la XP ah hai visto che forte ah 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 guarda il nurburgerino ho tirato giù il prezzo del nurburgerino eh c'è il bacino da Carla quando quando ti svegli la mattina all'orario dici alle 6 e 10 assolutamente 6 e 10 prima mi girano le scatole dopo mi girano le scatole 6 e 10 se intendevi quello se intendevi qualcos'altro scrivimelo eh Batman ci sono provate a fare il bere raga si si 6 e 10 quindi vado a letto alle 11 stacco ora che stacco le luci spengo le luci spengo la play vado in bagno una nuova e un'altra vado a letto verso le 11 e mezza ok bella lì che figata sta F50 che figatino sta F50 ah hai visto il baby avete visto di quella baby è nuova beh non c'è niente da bere mi hanno fregato tutto Leo Leo ma no non c'è nessuno non c'è nessuno sopra vabbè niente non bevo oh bellissimo da tutta ciao amici amiche benvenuti benvenuti non fate bevi fate pettine perché bevi non c'è niente da bere oh che bella botta che mi ha andato qua oh che soldino che ho raga bella eh sta F50 cosa mi dite spettacolo la Enzo io non so una Ferrari quanti belli state facendo raga ha riscattato pettine allora pettine sì in teoria sì non sta arrivando nessuno sono già le 9 in quarto non sa voi io e te poi vediamo comunque ragazzi andate a vedere il merchandising perché ci sono delle magliette fighissime cappellini porta mouse cover di cellulari Samsung e iPhone un sacco di roba merchandisosa fighissima che ci voglio comunque viaggia veramente bene scalatina ciao vice amiche mi raccomando iscrivetevi dai che facciamo 550 se non siete iscritti dai che arriviamo a 5.50 ragazzi amici amiche sentite che bel botolino che ha queste macchie tanta roba ci posso comprare nulla io non posso non c'è problema amico mio no problema non c'è problema l'importante è che vieni ci divertiamo ridiamo scherziamo ok cosa facciamo adesso allora Matt Frack tu vuoi venire a giocare con noi fammi capire che non ci sto capendo più niente stasera ragazzi oggi ho fatto 4 ore di corso tra l'altro quindi ho un sacco di informazioni nel cervello ho fatto il corso della Fanuc sono i linguaggi di programmazione delle macchine utensili e sono bombardato quindi allora che cosa facciamo allora io vi dico che cosa devo fare io devo io devo comprare questa macchina qua ma costa 12 million 12 million questa qua questa la devo comprare per il trofeo gli altri li ho comprate tutte che sonnino che ho e allora io volevo fare qualche esperienza sul circuito così la facciamo insieme vedi 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 allora facciamo qualche esperienza sul circuito dai poi appena arriva a Scharderino andiamo a fare andiamo a fare qualcosina volevo qualcosa di l'ho fatta questa questa era tanto ti fanno tirare ma no fidati chi 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 amico mio ah facciamo questa chi 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 ah quelli dei corsi si lo so ah ah le esperienze ah ok pensavo stai imparando quello di corsi di odistramizzo vabbè eh si le esperienze sono tanta roba questa macchina va solo in pinta mi sembra che va un po' ciao amici e amiche di Twitch mi raccomando iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto dai che arriviamo 5.50 amici e amiche mie bella ha deciso wow allora riproviamo qui ragazzi le esperienze sul circuito sono un po' le patenti è l'audi r18 tdi 11 è diesel è diesel amico mio ciao amici e amiche di Twitch benvenuti ragazzi e ragazze al canalozzo di marco drums e mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi al canalino eh ragazzi sono cambiate le icone marco drums ho fatto il merchandising amici così se volete comprare le magliette se volete sbirciare anche solo senza comprare scrivete e punto esclamativo compra deciso si signore curva 1 finisci esci esci più forte quella lucas ciao amico mio allora lucas icone nuove fighissime c'è il bacio di carla il bacio di marco il burguerino è stato abbassato di prezzo e non lo so perché non te lo fa aprire l'occhi oh grande amico mio un sacco di pubblicità fatte dai ragazzi adesso c'è il merchandising che si possono comprare le magliette le cose fighissime vediamo come è tardissimo cos'è che cos'è che hanno e e poi che novità ci sono non so altre tre persone altri tre amici altri tre follower dai ragazzi arriviamo a 5.50 forza forza amici allora qua arrivo troppo forte allora scrivi eh 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 ciao lucas devi scrivere punto esclamativo eh compra e il bot ti fa vedere il link questa macchina è diesel ragazzi eh è dieselino eccolo qua punto esclamativo compra eccolo qui il link ragazzi stream elements marco drums games va bene andate a vedere curiosare comunque sono fighissime caspiterina 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 raga queste prove sul circuito sono veramente sono veramente toste tosterelle eh grande deciso grande deciso ti compri tutto bellissimo cappelli perché non ci sono le mutande se no le mettevo grande deciso grandissimo volevo mettere voglio farne intanto ho fatto un record volevo fare deciso anche una anzi dopo la faccio con la mia faccia con la mia faccia così la tazzina sai tutte le volte che devi bere bellissimo qualcosa di ultra simpatico devo farlo oh raga ma a parte che non va una sega sta macchina è diesel sembra furgone non mi sembra di sbagliare qual è la parte che non riesco a prendere veloce secondo voi ok qua se vado a fuoco non la faccio quindi non zbo mi prendo la maglia nera che è stupenda grandissimo deciso c'è un figo della madonna grande tutti in giro con le magliette di Marco Dranz ragazzi voglio vedere alla fiera Milano anche la cover dell'iPhone bella lì o del Samsung grande deciso dici la prima curva ciao amici amiche di Twitch come state la prima curva la prima curva ma allora esiste la taglia 3XL 3XL e penso proprio di chi io è americano ragazzi quindi ci sarà anche la 6XL credo ma perché dici che esco piano porca ragazzi ma è è facile di andare di notte sto allora aspetta sì tu fallo però io entro dopo perché devo aspettare che ah bello adesso no ma in realtà appena aspetta fammelo fammelo provare con il pad voglio capire una cosa allora adesso mi fa il manuale 100 metri 2 non lo so sai non si capisce niente perché è in inglese credo no tra l'altro il cappello è cucito raga allora sì ma 33 sempre sempre il cappello è fatto con col filo quello il cappello quello più bello no non esiste la dimostrazione sui tutorial qua probabilmente è qui che andavo troppo lento ma cazzarola ho messo il cambio automatico devo toglierlo ha fatto un miliardo di volte sta gara domanda fondamentale che tu schiara squadra squadra tipo allora se tu stai parlando del calcio che credo che stai dicendo quello io non sono un amante purtroppo però tifo la juventus perché mio zio tifava la juventus quindi dirti i giocatori che giocano e di qualsiasi squadra ti direi una bugia nel senso che non conosco nessuno del calcio io sono più per lo snooker per il tennis per il golf per la formula 1 per la moto gp per il campionato dtm per il campionato super stock super sport forge cup ferrari challenge più per altre cose però diciamo che sono un tifoso della juventus ma giusto perché lo è mio zio invece carla forza atalanta non so neanche dov'è l'atalanta dito la verità è uguale 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 e invece carla è del flamengo che lei essendo brasiliana il flamengo dovrebbe essere il milan di italiano invece la sua cugina del bottafogo che il bottafogo ha gli stessi colori della juve per parlare proprio di squadra infatti io volevo qualcuno di voi ragazzi cazzarola ma devo dire così Marco ma no non non seguo quindi deciso non non rimanere deluso da nulla non lo seguo quindi allora tu lo snooker chi chi tipi dimmi un nome di giocatore di snooker porca loca no 0 tcs ragazzi 0 tcs ci 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 allora jury lord credo che non ci sono perché hanno avvisato prima sul gruppo che sono un po' stanchi e stasera non entrano entra domani de di formula 1 no 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 snooker snooker lo snooker chi ti ti sullo snooker io lo snooker tipo sullivan però se tu non conosci lo snooker capisci che c'è trump c'è un sacco di gente che fa snooker no quindi io onestamente non so neanche che cosa è esatto vedi è quello che stavo dicendo cioè lei mi dice deciso che è deluso perché tipo la juve ma io non tipo la juve io tipo la juve perché mio dio tipo la juve se uno mi dice tipo l'atalanta io tipo l'atalanta capisci quello che voglio dire non lo seguo proprio e e il discorso è che chi segui nello snooker se non conosci uno sport è un po' difficile capito schierarsi o tifare è per quello che gli ho detto a chi ti fii allo snooker perché non lo conosce e chiaramente quando uno non conosce una cosa sta muto per quello che io non parlo mai di calcio non so neanche cosa sia 29.4 intanto ho fatto l'oro vedi deciso no per dire mi hai deluso no non ti ho deluso amico mio perché tanto è tanto grande Marco Dranz ci guardiamo una performance della madonna e poi e poi per parlare infatti non parlo mai di calcio perché non voglio entrare in polemiche o in tifi che non mi competono sinceramente ti dico proprio la verità comunque se io sono Juventus mia moglie Carla è del Milan diciamo che ci stiamo dai facciamo un po' un po' tutto però mi piacciono tutti i tifosi quando le tifoserie vai vai grande Frank quando le tifoserie sono oneste nel senso che c'è solo lo sfottò e neanche troppo esagerato a me piace tutti gli sport quando cominciano a menarsi a a parte che c'è la dimostrazione tra l'altro ma mi dai la colla dell'acqua frizzantina per piacere c'era la dimostrazione raga e io che ho detto di no scemo unito e quando ah ma tra l'altro ah ok quando invece diventa il tifo troppo violento troppo brutto non mi piace nessun tipo di sport infatti io seguo quelli tipo Judo un sacco di roba seguo ragazzi ho arrivato il baby e bevo adesso Loki lui frena a 80 eh prima eh dai dai famola che non c'ho mica bisogno di uno che mi dice come fare le cose giusto raga le cose si fanno a pelle ah io sta pistola l'ho fatta parecchio perché oh troppo lenta bella Loki ho capito capito dopo dopo quando giochiamo online entro prima non entro mai sai perché devo parlare e devo fare tutti i miei monologhi e tutte le mie cose e non voglio distrazioni nel party sai amico mio che funziona così quando adesso entriamo a fare il coso entro dentro tranquillo tranquillo che ci entro volentieri si si lo so lo so lo so gli ho anche spiegato il perché non entro adesso 33 e 0 57 ok diciamo che non è andata male perché se entro nel party ragazzi io sento anche gli altri no 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 ma scusa di che amico mio no 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 è solo per cosa succede ah beh sto andando in seconda no 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 non devi scusarti assolutamente amico mio no no è solo per dire che è il mitico Loki che entro nel party quando vado online perché se no adesso devo concentrarmi a guidare concentrarmi a rispondervi amici miei e faccio un po' di casinca sotto oh 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 non credo che sia da quarta io non credo però allora devo frenare e sfrenuzzare devo sfrenuzzare ah perché lei apre un po' è un po' è un po' lenta mi sa eh raga forse devo prenderla in seconda cosa dite devo prendere un po' in seconda quella lì che lunga ciao amici e amiche di Twitch vediamo se vabbè 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 anche se l'ho sbagliata diciamo che comunque non è andata male sto facendo un po' le esperienze sul circuito ragazzi uno perché mi servono per fare il platino e secondo per accimolare qualche soldino allora se vado di seconda e poi do dentro un po' di gas perché io questa qui la facevo con la BMW quella col motore BMW McLaren BMW e la facevi a palla quella lì 33,6 non basta ancora le esperienze sul circuito sono un po' come le patenti amici miei fanno veramente un po' arrabbiare vi dico la verità ciao ragazzi ciao amici amici di Twitch mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi al canale grandissimi in primo ho messo in primo ho messo raga non so neanche perché ero finissimo questo giro doi ho toccato dentro un attivino la spigolino prima ce la siamo riusciti a fare l'oro qui ero partito già bene forse se non sbaglio alla fine ti chiami la playstation loki 47 quello che c'è scritto lì nooo che cannata che cannona l'ultima curva proprio ho sbagliato raga incredibile vittico loki c'è Batman che ti ha mandato la richiesta d'amicizia ma perché a me deve sempre fare due centesimi alla volta ciao amici e amiche di Twitch adesso andiamo a fare un po' di sano e buono online eh raga per me è lì che è qui che perdo un paio di qualche un secondo due in base alle impostazioni Batman che impostazioni fa allora è tutto in questa curva qua secondo me iscriviti al canale che brutto bruttino ragazzi ma come mai non riesco a fare l'orino l'oretto è qui che sbaglio mi sa forse forse ma forse è bello questo giro se non sbaglio alla fine vai raga vedi 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 bisogna sempre insistere sempre imparare sempre fare meglio bella lì il tempo poi alla fine non mi interessa a degli amici che ho in coso in party mi interessa solo fare le esperienze sul circuito è tutto oro tutto oro dai che adesso andiamo in party facciamo una bella giocata con Loki che pista mettiamo Loki è arrivato qualche baby si non c'è problema possiamo giocare anche senza il party amico mio non c'è problema Dragon Trail senza il party dai così riesco a parlare con gli amici qui Marco ma da play ti chiami Marco Drums no Marco Drums e basta si si senza games perché games l'ho inventato dopo per streamare Marco Drums se ce l'ho da 11 anni boh credo come come che cosa come a lui andava in perivari eh ah si qui c'è la finale secondo me non è buona no buona no problema no problema Loki 25,9 25,9 35,9 35,9 allora ok due vai secondo me è tutto questa cacchio ma puoi dire che la prendo la posso prendere la palla con sta macchina qui devo frenare un goccio prima eh qui devo frenare un goccietto prima sì 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 dai 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 allora è credo che è la seconda qui è quella curva qui alla fine che mi frega aspetta che devo cercare di prenderla più veloce questa macchina l'occhi mi sa che non ti ha capito chi non mi ha capito certo certo lui fa la live senza sentire e io metto lui che si sente no problema adesso no problema no problema oh sì 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 no problema ragazzi non c'è problema non c'è problema com'è figurasse allora guarda qui guardiamo qui un attimo la mega performance io sto esaltando mi sto esaltando per la mega performance a manetta con questa qui hai visto eh prima che frenavo perché io con quell'altra dovevo frenare invece con questa qui che è bella settata si assetta bella dentro e secondo me potevo anche fare un po' meglio adesso in teoria forse c'è il giro se c'è il giro dovrebbe pagare abbastanza bene vero raga in party ora se no compito no problema no problema facciamo party Rocky stai tranquillo allora allora esci giro singolo fammi fare sto giro singolo che voglio fare un bel oro subito la prima dai un oro la prima dai 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 che mi concentro concentrato però sale molto lenta sta macchinina diesel che tensione raga io questa macchina l'ho comprata comunque anche se secondo me la toyotina simile viaggia un pelo di più dell'audi questa è comunque quella diesel quindi quindi è mmmm 28 29 30 30 CACCHIO Cos'è che ho sbagliato raga Io devo farla subito la prima No io devo fare 50 giri Cos'è che ho sbagliato Cos'è che dov'è che sono andato lento Forse la quarta Ho preso un po' troppo lento la quarta La penultima curva con la lata Ho detto Allora troppo veloce qui si va fuori Quindi qui la faccio giusta Boop Vediamo un attimo come Uh A poco l'ho presa Allora 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 Vediamo un attimo 27 8 29 30 31 Dai muovi CACCHI Terino Qual è la parte che sbaglio raga Sembrava buono stavolta Vi dico la verità Mi è rimasto un po' male Allora Allora la parte la Della quarta Devo dar dentro di più Devo tenerla in quarta Allora Allora qui se non freno Lei va fuori Non c'è niente da fare Allora se non do una bella inchiodata Non sta Allora 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 ok qui ho sbagliato ma vada via l'ho presa dentro troppo qui dai dai marchito vai vai manda che mi arriva il messagino ma vada porca non ho mai sbagliato lì come mai ho sbagliato adesso sono teso ragazzi sono teso perché voglio fare i soldini riuscivo a farla in terza adesso non riesco più perché non riesco più a farlo in terza Marco ok ok 28 29 30 vai si bella lì raga vediamoci sto giro trionfale grazie frate amico mio stasera non entra non entra gente ragazzi particolare strana come serata bella lì visto ho tagliato un po' destra e sinistra qui track prima un po' di cordolino ci sta sempre nel secondo settore si 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 qua addirittura ho messo in seconda guarda prima la facciamo in terza a 170 all'ora sta qua in seconda secondo me se riuscivo a prenderla in terza quella curva lì tiravo giù ancora di brutto a filo muro qua è una bella frenata invece qui è tutto un bel pezzo a fuoco è tutto un bel pezzo che c'è destra e sinistra destra e sinistra ma si fanno questa addirittura in quinta l'ho fatta ma tranquilla proprio frenata tra l'altro potevo anche ma ci stava in seconda dai bellissima sta ripresa e vai allora salviamo replay ok giro singolo tramos allora allora questa la pista e la Sardegna cavolo siamo solo in due in live eh si non lo so cosa succede non lo so ciao ragazzi ragazze mitici ok condividiamo sarà perché è come si dice sarà perché è mercoledì live da 300 e live da 2 bella questi sono gli scapes queste non sono scapes vero? sono fatto da gara queste bella ok va bene ci sto ok vediamo un attimo com'è perché io per fare il trofeo devo fare anche 100 photoscapes ma le foto così è bella eh guarda che roba ma le foto scapes non sono queste vero? non sono queste allora macdams playstation app vediamo cosa vuole playstation app batman richiesta accettata ok accettatelo non lo so cosa sta succedendo nooo perché nooo perché sì no quello sì no dico perché c'è poca gente davvero pochi ooo ooo bella ciao amici andiamo a farci una mega corsetta andiamo a farci una corsettina corsetta credite mitici grandissimi bella lì dai allora andiamo a quanti soldi mi dai 48 200.000 un milione beh 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 raga beh raga aspetta un attimino qua che ti sistemo io c'è qualche pisterella un po stupidella a queste a questo me lo ricordo se tosta tutto oro tutto bronzo cosa dite questa ciao amici amiche editrice come state ragazzi allora il mitico lochi ha creato la lobby vero lochi ok lo facevamo così quando giocavamo in lobby adesso non va bene più ok ok faccio questo arrivo come va per campi sta macchina mamma mia ricominciamo e come mai amico devi andare a letto devi dirmelo tu amico se no facciamo direttamente domani domani intanto facciamo la lobby così magari c'è anche sharder e monster vedi che non è entrato neanche monster stasera eh andate tutti a dormire ragazzi non so neanche io se fare la lobby allora a sto punto eh andate tutti a nanna continuo un po con le con queste qui allora ragazzi ma che macchina è questa qua sto facendo le esperienze sul circuito amici miei eh sto facendo le esperienze sul circuito amici sto facendo le esperienze sul circuito amici tutto in quinta la fa in quinta la fa eh proviamo proviamo la Mazda Vision Concert e questa la usavo anche tra l'altro un po lentina però non è male non è male nel tempo non schifo non è male non ha capito l'occhio a sto punto ho mai detto devi spegnere che vai a letto o dobbiamo giocare non ti ho capito scusami Ryan ciao Ryan amico mio se non sei iscritto iscriviti al canale grandissimo tec arriviamo a 550 G923 Ryan e dove sto andando ma io ero quello della ok scusa scusa Ryan sai che non mi ricordo una sega no no non mi ricordo niente ho una memoria tipo di cricetino cricetino piccolino ah weekend del formula 1 ok ok Riccardo Imola e formula 1 me lo ricordo adesso Ryan domenica andiamo a girare quando girano loro mi collego le due e andiamo a fare formula 1 ah ok ok grandissimo eh no non mi ricordo una sega adesso oh grande Ryan no no non me lo ricordo non me lo ricordo ma mi fido mi fido vai tranquillo io vado nanna domani buonanotte disponibile simpatico mitico fracca grandissimo buonanotte mi raccomando fai le ultime verifiche fatte bene come si deve eh così almeno finiamo sta scuola col botto e poi sei libero ciao fracca grandissimo dai ma come fa lui lui la prende così tranquilla dai dai allora vado un attimo in lobby con con l'occhi e poi ritorno eh ritorno su questa qua perché caspiterina c'è sta macchina che mi piace una grezza 800.000 così a parte che sono tipo stato un'ora quindi alla fine della fiera si è vero che da un milioncino ma ultimo giro di scuola spirituoso per un lungo giro d'onore trimestrale esatto esatto bravo 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 proprio è la frase scritta perfettamente è arrivata holly sprint oso non spirituoso sprint oso allora ok dragon trail con che macchina lochi vediamo se ci fa entrare prima di tutto non ho capito cosa scritto Allora lo fa l'ha fatto lochi parti deve deve invitarti lui spazio Quello è il g 29 No è l'evoluzione g 923 raya è il modello dopo che è stato fatto solo per playstation c'è il g 920 che è fatto per xbox e il g 923 che è fatto per playstation al true force che praticamente ti fa sentire di più l'asperità del terreno ritorno di forza quindi quando tu giri così lui ritorna automaticamente in centro e non mi fa entrare l'occhi e vedi che torna in centro guarda e poi fa sentire le asperità a due auto parlanti qua sopra che quando tu prendi i cordoli e queste cose qui fanno vibrano e alla fine il g 29 però si alla fine il g 29 però questo funziona solo con pc e playstation invece il g 920 funziona con xbox e pc io era meglio se compravo il g 29 ma quello è il logo playstation nel mezzo quale? questo? questo? no è lg logitech logo playstation no in realtà non c'è il logo playstation c'è solo il simbolino playstation davanti sai per schiacciare c'è scritto logitech lg questo è marco drums games ho fatto anche un video se ti interessa vai pure a iscriverti sul mio canale sul mio canale sul volante sul claxon cosa c'è qua qui lg logitech lg qua logitech e qua logitech è lo stesso simbolo vedi che c'è scritto il simbolo logitech se vai a vedere su amazon o su qualsiasi cosa scrivi logitech g 923 comunque ti stavo dicendo adesso ti sto facendo il link ti sto mandando il link del mio canale youtube così vai a vedere l'unboxing io ho fatto l'unboxing di sto volante perché non c'è il punto esclamativo tocchi si 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 aspetta aspetta che ti sto mandando no non è questo come si fa il punto esclamativo ok se scrivi social vediamo che cosa viene fuori niente perché ho sbagliato a scriverlo ma dov'è il punto esclamativo ok ok bravo bravo ryan punto esclamativo social punto esclamativo mitico viene fuori quello di twitch punto esclamativo compra viene fuori il mio merchandising dove ci sono tutte le magliette delle cose fichissime intanto loki provo l'ultima volta poi non possiamo fare la live perché non entra al massimo se vuoi amico mio la faccio io e vedi se devi entrare tu va bene? ciao monster grandissimo io tutto bene tutto bene amico mio ti stavamo aspettando per fare oh sharderino mamma mia sharder ci hai tirato quasi il pacco stasera dai e vi va di giocare monster e sharder con loki falla tu ok si perché vedi che non sta funzionando beh adesso c'è intanto sharder se ha voglia di giocare la fa lui così credo che da lui riusciamo a entrare tutti non so perché ragazzi ma a volte è una cosa incredibile allora monster si c'ha voglia sharderino vediamo che cosa scrive bragali ciao amore ok ci sono anche le icone nuove ragazzi eh guardate quella del bevi raga ciao amica ciao bello charderino eh sapevo che non stai parlando con me te la fai una partitella? ti va? ti va? ragazzi c'è anche questo eh bacino Marco Drums raga che figata pettine verde pettine verde pettine verde ok non si riesce sharder tu cosa fai? giochi stasera? ti va di fare una partitella? dimmi tutto pettinino o ho già pettinato raga? perché qua i capelli svampano allora Loki non riusciamo a giocare sinceramente allora ok sono amici allora Dragon Trail abbiamo detto 12 12 no ho messo personalizzato ho messo che ho finito poveriggio Red Bull Racing la pista ma aveva detto cosa di fare Dragon Trail Red Bull Racing facciamo Red Bull Racing? io drifto e non me ne frega perché drifty? perché drifty Loki? gioca bene gioca bene Red Bull Racing fammi vedere da Loki ah Red Bull Racing è questo ogni pista per me va bene dai facciamo ciao ragazzi ciao amici come state? come state? come state? come state amici? amici miei a uno ring Red Bull Ring è il vecchio a uno ring ah questo? c'è anche il tracciato corto eh come si vede il tracciato corto? da dove lo ricavano? ah da lì c'è tipo una curva lì tac e fa il pezzo finale non lo so dai facciamone facciamo dai facciamo questo va benissimo 12 giri ma il carburante quelle cose lì dov'è che si mettono Shardel? pomeriggio meteo ah davvero? ah allora gara divieto griglia intensità consumo carburante per 5 ha detto Shardel lo faceva usura gomme tutto per 5 perché il vetro ma io non lo so riduzione di aderenza fuori pista quanti siete alla gara? io mostro Loki e tu? se ti va 12 sono troppi? ah ok 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 Shardel per 3? per 3 cosa? ah per 3 ok vai allora ragazzi se riuscite a entrare andiamo con la NSX GR1 ok no sbagliato nooo sbagliato Gu sbagliato cambia auto ciao amore ciao amore cnx eccola qua eccola qua eccola qua mi passare? sì sì eccoci qua ecco che è arrivata la mitica Carla ragazzi ciao a tutti ormai alle 11 arriva si va di NSX sì ciao ciao Loki la macchina è un bollide ragazzi eh ok ragazzi siete riusciti ad entrare? no 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 kiaaa fita no 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 Si sta caricando Ciao amici e amiche di Twitch Come è stato ragazzi e ragazze Granissimi Intendiamo di fare una bella Allora normalmente quando faccio io la lobby Non so per quale motivo ragazzi Ma non riesce a entrare quasi nessuno E Sharder che la fa Eh uguale a me prima Ciao Xlady Se non sei iscritto al canale Se non sei iscritto al canale Iscriviti al canale eh amico mio Nooo qui è È la doppia Che non so basta che basta Grazie Mi rientra dopo e fa buu 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 No No l'ha rinnovato L'ha rinnovato amico mio L'automatico Grazie 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 Ah porca Monster si è unito Vediamo se è abbandonato Eh ragazzi non so cosa dirvi L'unica cosa prova a farla monster Si Sharder Grande Xlady Tu ci sei Bella Oh per leggerti che c'eri Sono andato fuori Vabbè Allora Dai Facciamo col giro giusto Ce l'hai monster Non so cosa dirti Sai che È un problema Che abbiamo sempre noi Riprova Riprova Finché ti fa entrare Perché Se la gara è a 3 A 4 A 5 È un po' più divertente Sinceramente Ah grazie Ah grazie Tranquillo No problema Perfetto Perfetto Chi di punto si chiama Si chi va comprare Quello del store per comprare le magliette, le tazze ho messo il cappello ricamato Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Red Bull Wind 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 La chi non è riuscito ad entrare? No Si, forse l'ha fatta bene, non lo so, l'ha fatta bene, ma... Non lo so, l'ha fatta bene, non lo so, l'ha fatta bene, non lo so, l'ha fatta bene... Ciao amici e amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi... Dopo dopo la gara te la manda, così poi può fare la lobby lui, no Loki e magari si riesce a entrare sinceramente perché così è... E vai, e vai, e vai, facciamo la gara ragazzi e poi ci salutiamo, sono Muertos de Suenos... Il supporto volante, non lo so, è uno su Amazon, non so il tipo proprio... Ok ok, ok, chard... Diciamo che... Fatti sti dodici giri... Fatti stiК Mi chunda Li oh monster mi sei venuto su no incredibile ragazzi dovete andare a vedere il replay mi è passato dentro eh non lo so gran turismo domani è giovedì venerdì c'è venerdì c'è rocket league quindi domani gran turismo raga non frena niente dai eh sai che non lo so non credo sai bello vediamo venerdì se vuoi passa una scappata anche venerdì domani sera facciamo gran turismo set ancora io devo comprare la macchina da 12 milioni devo per forza eh sì quella quella amico mio devo comprare quella da 12 milioni arriva troppo veloce sta macchina non frena dai non ti intraversare ah bella 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 bravo sì perché le altre si possono comprare quando si vuole le leggendarie no leggendarie o le compri io anche in testa cosa mi doveva andare sta scema continuo ad andarmi sotto sterzo e sovra sterzo vorrebbe un bel settaggio di sta macchina wow fai bene fai bene io ho il brand central ho tutte le americane tutte le europee mi mancano una ventina credo di giappo e poi le ho prese tutte però chiaramente devo aspettare queste qua leggendarie quando escono questo c'è poco da fare la porca puzzola ciao ciao Loki ci vediamo domani dai domani facciamo la lobby un po' prima così riusciamo a giocare e spero che c'è share share cosa mi dice della lobby del brand central eh sì quello hai ragione quello hai ragione notte Loki ciao amico mio buonanotte Loki notte Loki ciao ciao bello qui lo metto in prima perché se no sto deficiente e me lo fa anche con la seconda eh sì con le mani ciao ciao mamma mia ragazzi io in teoria la formula 1 adesso è a Monaco eh e Monaco con la formula 1 è il tracciato più brutto in assoluto che non riesco a farlo è un disastro per me Monaco dovevo fare 60 giri non so quanti ne fanno loro eeeh 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 oh crocca loco mi parte via ma perché non era così sta macchina ho preso macchine più belle dopo mi trovo davvero bene con questa macchina qua ma 78 giri Ryan mamma mia e quando li faccio io eh sì mi parte via ciao Scharder mamma mia e continua dalla destra a sinistra ciao Scharder a 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 tantissimo a 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 non è detto sempre che con il volante sia meglio che col pad insieme a te mostri già fa col pad ha fatto una 19 io non riesco a scendere sotto una 20 in scivola a 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 ti ringrazio ci vediamo ci vediamo domani sera a tutti ciao ciao ragazzi ciao mostro domani e ciao mitico ciao 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 black axel grazie thank you black axel ha visto che c'è il sol il saluto adesso ti ha seguito grazie 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 4 c 540esimo black axel grandissimo grandissimo allora black axel visto che purtroppo finisco adesso la live ti aspetto domani sera tomorrow ore 21 ah sei italiano black axel pensavo che ciao amico mio come stai allora ascoltami black scusami ma stasera sono veramente distrutto dal sol sto morendo sto morendo infatti penso che l'ultime 3 4 curve che ho fatto tutte di traverso era perché il mio cervello si stava spegnendo guarda che bella cosa fa ah grande ah 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 grande grande chris ah grandissimo bella lì bella lì grandissimo chris fatto bene fai 50 account fani altri due per piacere dai così arriviamo 450 ah 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 così arriviamo 450 follower ah 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 grandissimo grandissimo ti ringrazio lo stesso eh ti ringrazio lo stesso oh black grazie mille di avere rifatto un altro account però non diciamolo troppo grandissimo e ehm benvenuto al canale eh ti troverai veramente bene ne ho uno ah ok 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 bravissimo bravissimo dai 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 amico mio ci vediamo domani sera ci vediamo tutti domani sera grazie eh per essere stati con noi anche se stasera terminiamo un quarto d'ora prima ma veramente ragazzi non ce la faccio più devo andare a letto perché io sono vecch ciao a tutti ragazzi a domani ah ok ok va bene va bene va bene va bene grandissimo grandissimo perfetto 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 ok ok ho capito ho capito black grandissimo grandissimo grazie eh grazie di tutto ciao a tutti ragazzi a domani ciao 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 black eh buonanotte buonanotte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti